di Draghi tiene insieme questa maggioranza, se non c'è Draghi a capo del governo può saltare tutto. Sì, io voglio dire questo, Draghi è stato nominato dal Parlamento, come ha detto lui, in un momento di emergenza, in un momento difficile per l'Italia e ha ottenuto dei risultati incredibili. L'abbiamo visto, un uomo sicuro, un uomo preparatissimo su ogni tema che ha esposto, un uomo che vuole portare avanti il progetto PNRR e tutti i provvedimenti per cercare di far crescere l'Italia, infatti siamo il paese che cresce di più in questo momento, il paese che ha più opportunità sia dal punto di vista economico che dalla crescita, dalla diminuzione della disoccupazione. Detto questo, lui ne deve tenere conto di questo, perché cosa succederebbe? Prima di tutto c'è un problema che il Covid c'è ancora e sta peggiorando e quindi dobbiamo tenerne conto. Non è che non c'è il Covid, questo ne dovrebbe tenere conto anche il Presidente della Repubblica a Mattarella. Siamo in un momento di emergenza e quindi cosa potrebbe succedere? È chiaro che avere al colle Draghi sarebbe una cosa eccezionale per il nostro paese, però chi guiderà il governo? Sì, una persona di sua fiducia, ieri ha citato tre volte una persona di sua fiducia e quindi senza fare nomi può darsi che Franco... Il attuale Ministro dell'Economia, Franco. Sarà a lui, certo, però che cosa succederebbe in quel caso? Succederebbe che magari i partiti, che non dimentichiamo che se facciamo il conto dei voti, forse la destra un po' più avanti e questo è un problema, però siamo al 50-50 più o meno. Quindi l'Italia è instabile da quel punto di vista lì, quindi se andasse un altro Presidente della Repubblica, alla fine come dice anche Salvini, che non garantisce lo status di forza di Draghi, i partiti magari resisteranno un anno, però tra un anno che cosa succede? Che questo governo, cioè lui al colle, il Presidente del Consiglio nominato da lui magari verrà riproposto, ma probabilmente ci saranno dei problemi. Quindi dato che è stato fatto tutto un lavoro sul PNRR e c'è ancora il Covid, io pregherei, anche se sembra che non si può più fare niente, il Presidente della Repubblica attuale a rimanere un altro anno. E questo lei l'ha ripetuto due volte, allora facciamo così, c'è una pubblicità tassativa.